Sarà attivo a Ragusa Ibla un presidio sanitario. Lo garantisce il sindaco Peppe Cassì qualche giorno dopo la lettera ricevuta da uno studente universitario del corso di lingue che ha sede proprio nel quartiere barocco di Ragusa. Il ragazzo aveva denunciato pubblicamente di aver rischiato la vita per un malore dovuto a una violenta reazione allergica. Il giovane durante la lezione universitaria ha accusato i primi disturbi recandosi quindi in farmacia. Il personale ha fatto tutto ciò che gli era possibile ma non è stato abbastanza. A salvargli la vita infine nel pomeriggio quando la situazione stava per diventare fatale. È stato un medico che per caso si trovava a Ibla e che ha prestato i primi soccorsi in attesa di essere trasferito in ospedale. Lo stesso giovane ha manifestato al primo cittadino la necessità di creare nell'antico quartiere del centro storico un eservizio di guardia medica all'eservizio dei residenti, degli studenti e dei turisti. Il trasferimento al nuovo ospedale, Giovanni Paolo II dichiara il primo cittadino, ha comportato un inevitabile decentramento dei principali servizi sanitari. Per questo da un mese siamo al lavoro per garantire in sinergia con l'ASP una più tempestiva risposta di intervento alla zona di Ibla, quartiere privo di un presidio di guardia medica e popolato non solo da residenti ma anche da esercenti, studenti e turisti. Posso quindi comunicare, continua il primo cittadino, che sono già stati individuati i locali in cui poter ospitare, all'interno della cinta urbana, personale soccorritore e ambulanza del 118. Lo spazio si trova negli ampi locali sottostanti l'infopoint di Piazza Repubblica, se a seguito del sopralluogo tecnico che si terrà la prossima settimana, gli stessi saranno valutati come riteniamo positivamente, procederemo immediatamente con la delibera di giunta ad assegnarli all'ASP. Grazie per la visione!